Perché ti piace di più con i capelli appena tagliati? Perché ti liberi dalle punte sfibrate? Aiutali a rimanere sani, morbidi e facili da pettinare, proprio come appena tagliati, con la nuova crema balsano vitalizzante Pantene. Come mai prima d'ora, Pantene si diffonde su più parti dei capelli, proteggendoli dalla radice alla punta per una straordinaria morbidezza e brillantezza. Godi di più a lungo la sensazione di capelli appena tagliati. Nuova crema balsano vitalizzante da System Pantene, per capelli così sani da farti brillare. Tè in fredda, è buono qui, è buono qui. Tè in fredda e tè inato, solo il piacere del tè. Massaggio verticale, massaggio pantali, sauna. Una doccia multifunzione teoco, ti dà questo e molto di più. Doccia multifunzione teoco, tutta la vita che vuoi. Cara Anna, in soli cinque minuti Tommy ha esplorato tutta la nostra nuova casa. Saremo felici anche qui. L'ho capito quando gli ho dato il suo Cesar. Tanta carne tenera, un brindetto delizioso. Tommy si è sentito subito a casa, e anch'io con lui. Cesar, per amarlo come non ti ama. Era una casa molto carina, senza soffitto, senza cucina. Era una casa molto carina, senza soffitto, senza cucina. Acqua vera, vita pura. E con la mia nuova raccolta punti da oggi, telefonare costa meno. Quando tuo figlio ha un brutto raffreddore, le tue mani sono la migliore fonte di cura e amore. E quando le tue mani spalmano Vicks Vaporum sulla gola, sul petto e sulla schiena, i suoi vapori balsamici decongestionano, aiutano a calmare la tosse e a farti star meglio. Cosa c'è di meglio di un gesto d'amore, è Vicks Vaporum. È un medicinale, leggere attentamente il foglio illustrativo. E poi c'era la marmotta che confezionava la cioccolata. Beh, sì, certo. Mica, la più teme raffreddazione. Mmm, che profumino. Cos'è? È l'aceto balsamico di Modena Punti. E lo metti sui gamberetti? Ha un gusto più morbido. Anche sui ravioli? È una ricetta tradizionale di Modena. Pure sul filetto? Dà un sapore più deciso e più rotondo. Sulle fragole, no. E assaggia. Mmm, ancora? Mmm, aceto balsamico di Modena Punti. Da una tradizione antica. Un nuovo profumo in cucina. Punti, aceto da cent'anni. Riso gallo blonde, sempre al dente. Perché i chicchi sono ricchi, robusti, pieni di vita. Esquisitissimo. Riso gallo blonde. Chichi ricchi! Sempre al dente. La tenerezza. Volevo soltanto informarti che mi sono fidanzato. La simpatia. Arriva al padoglio. Veloce, veloce. Un po' di tristezza a volte. Beh, allora, che facciamo? Piangiamo? Che siamo bambini? Noi siamo grandi? Give me five! Insomma, in casa Martini, le emozioni si misurano col sorriso. Un medico in famiglia è referibile anche a Natale. Dalle 20.50 su Rai 1. Caramba che fortuna! Dieci milioni! 50 milioni! Caramba che fortuna! Caramba che fortuna torna a sabato con 2 miliardi. Caramba che fortuna! Sabato 20.40, Rai 1. Caramba che fortuna! Grazie a tutti. Auguri della RAI e della sua orchestra sinforte. Grazie a tutti. Grazie a tutti.